Musica Benvenuti a TeleCRU, notiziario video dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, attività istituzionale e politica. Nell'ultima seduta l'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato a maggioranza la proposta di legge che modifica il testo unico Sanità e Servizi Sociali, modifica nota anche come legge sulla famiglia firmata da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Patto Civico, prima firmataria di questo atto e relatrice in Aula, la consigliera Paola Fioroni. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha anche approvato all'unanimità due emendamenti proposti dal consigliere Andrea Fora del Patto Civico, mentre ne ha respinti ben 11 quelli presentati dalle forze di opposizione, quelli di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto. I contenuti della norma sono stati spiegati in Aula dalla prima firmataria della legge, Paola Fioroni. La portata della legge, ha detto, sta soprattutto nel sostenere le funzioni della famiglia e promuovere la formazione di nuovi nuclei familiari, rimuovendo gli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono le nuove nascite, grazie a nuovi finanziamenti, una programmazione triennale e fondi strutturali per un ammontare complessivo di 30 milioni di euro. Tra le novità più significative del testo ci sono l'impegno della regione per la tutela dei minori, la genitorialità, la natalità, l'informazione e la formazione delle coppie e dei nuovi nuclei familiari, il supporto delle famiglie monoparentali numerose, separate, divorziate o adottive, il sostegno all'associazionismo familiare, alla tutela della vita fin dal concepimento e più in generale alla famiglia nel proprio progetto di vita. Viene introdotto il sostegno alla natalità come misura strutturale anche per le famiglie adottive e il Fondo regionale di solidarietà in favore dei figli orfani. Si prevede il sostegno alle gestanti e alle madri in difficoltà, alla genitorialità anche in caso di separazione e divorzio, anche attraverso l'armonizzazione dei tempi di vita personale e professionale, per conciliare gli impegni familiari con l'attività lavorativa, rendendo strutturale il bonus neomamme e promuovendo politiche di welfare aziendale, destinate ai genitori, nonché potenziando i servizi per l'infanzia. Previsto il consolidamento e la continuità dei centri per la famiglia, che in raccordo con i consultori familiari, favoriscono la stretta integrazione tra servizi sociali, educativi, psicopedagogici e sanitari, con lo scopo di promuovere la genitorialità e il ruolo sociale, educativo e di cura delle famiglie e promuovendo un maggiore protagonismo di famiglie e associazioni. Sarà istituito il fattore Famiglia dell'Umbria, strumento integrativo dell'Isee per la definizione delle condizioni economiche e sociali che consentono di accedere agli interventi previsti. Verrà creato il Dipartimento per la Famiglia, con funzioni propositive di coordinamento e di monitoraggio delle politiche trasversali in favore della famiglia, nonché di valutazione degli effetti prodotti dagli interventi previsti nel piano triennale. Istituito inoltre l'elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie per garantire un effettivo coinvolgimento delle associazioni nelle politiche familiari. Il calo demografico, ha ricordato Paolo Fioroni, è il problema più critico per la nostra regione, una perdurante sproporzione tra decessi e nuovi nati e una tendenza dei giovani a cercare altrove una possibilità di vita. Per la minoranza il relatore Tommaso Bori ha detto che questa legge è uno strumento di cui la destra aveva bisogno per l'ennesima campagna elettorale reazionaria oscurantista. Esso ha al suo interno troppi spazi di ambiguità e potrebbe consegnare i consultori dell'Umbria ad associazioni che si oppongono alla libertà delle scelte sul corpo della donna. Sarebbe la degna conclusione, dice Bori, di un mandato iniziato con la negazione dell'interruzione di gravidanza farmacologica, portando in piazza migliaia di persone e rendendo l'Umbria un esempio negativo. Da questa legge emerge quanto sia distante dalla nostra società il concetto di famiglia unica e tradizionale che è alla base di tutta la proposta. In particolare, sottolinea Bori, all'articolo 1 si sostituisce la parola famiglie con famiglia, definizione che non tiene conto della realtà delle formazioni familiari nel nostro Paese e della loro evoluzione nel corso del tempo. Si tratta di un testo ideologico, patriarcale e oscurantista che vorrebbe manipolare le opinioni e le scelte delle persone e in particolare delle donne per eliminare la cultura dell'autodeterminazione e della libertà di scelta. Questa non è una legge per la famiglia, secondo Bori, è una legge contro le famiglie. La legge che discutiamo parte dal presupposto e dall'assunto che la società oggi sia ancora basata su un solo tipo di famiglia. E allora, anche nella relazione, ha sottolineato Bori, e tengo a ribadire quanto questo testo sia lontano dal contesto sociale contemporaneo. Gli altri interventi in aula per Andrea Fora si tratta di una legge che rispetta quanto scritto nella Costituzione italiana e nello Statuto regionale, impostata sui valori della famiglia. Non prevede negazione di diritti a nessuno, anzi, come giustamente è stato fatto, quando si interviene legislativamente su una materia come questa, i diritti sono aumentati e non tolti. I 30 milioni di euro previsti verranno utilizzati per fatti concreti, dice Fora, a sostegno della natalità, delle mamme, affinché possano conciliare la vita lavorativa con quella familiare per le giovani coppie, per l'acquisto della prima casa, per le famiglie adottive e quelle monogenitoriali con bambini orfani. Con questa legge si rendono strutturali, sottolinea Fora, risorse utili per le famiglie nel programmare la propria vita e si interviene in contrasto all'inverno demografico. Anche Thomas De Luca, Movimento 5 Stelle, ha espresso la propria contrarietà. Sono sposato in chiesa, ho due figli, ha detto, ma non sento anche il bisogno di affermare, togliere o svinuire la presenza di altre persone che fanno scelte diverse per affermare la mia identità. Non ho bisogno di restringere la libertà degli altri per poter manifestare la mia, che esercito nella piena convinzione, ha detto De Luca. Simona Meloni, capogruppo del Partito Democratico, ha sottolineato come tutti gli emendamenti proposti dalla minoranza siano stati bocciati e ha stigmatizzato il fatto che si arrivi alla legge sulla famiglia solo ora, a un mese e mezzo dal voto. Di fatto, secondo Simona Meloni, questa legge rappresenta un passo indietro rispetto al testo unico del 2015 in cui era stata riconosciuta centralità al termine famiglie e non solo alla cosiddetta famiglia tradizionalmente intesa. Per il capogruppo di Forza Italia, Stefano Pastorelli, con questa legge promuoviamo la formazione di nuovi nuclei e favoriamo le nascite. Ci sono misure che tutelano la vita umana fin dal concepimento, sostengono la genitorialità adottiva e molto altro. Interventi essenziali come la promozione della cultura dell'infanzia, il rispetto dei diritti dei bambini, riconosce il valore del lavoro domestico e di cura. Per Donatella Porsi, gruppo misto, positivi 30 milioni per le famiglie, ma enfasi, toni e ridondanza ne fanno un elemento di propaganda elettorale. Il sistema sanitario regionale soffre di carenze importanti, ricorda Porsi, che creano difficoltà grandi che pesano sui cittadini. Caregiver, disabili, persone fragili che vivono condizioni critiche con ricadute su tante famiglie. Dei ragazzi che vengono espulsi dai sistemi sociali, che dovrebbero invece accoglierli, non si occupa nessuno, sottolinea Porsi. Dietro gli stanziamenti c'è la presunzione di definire dove iniziano e finiscono i mondi della disabilità, del caregiving. Per Vincenzo Bianconi, gruppo misto, una buona legge per la famiglia serve all'Umbria. E per evitare questa contrapposizione che ai toni della campagna elettorale doveva arrivare in aula almeno un paio di anni fa, non serve lo schieramento contrapposto di curve da stadio. Elena Proietti Trotti, Fratelli d'Italia, ha sottolineato che per la prima volta ci sono 30 milioni disponibili per le famiglie. Questa legge migliora le condizioni di chi sta peggio. Considera la genitorialità un investimento per il futuro, non un privilegio. Noi vogliamo una regione che accompagni, che creda nelle persone, che punti sui giovani e sulla loro fame di futuro. Dobbiamo ripartire dalla sacralità di ogni essere umano. Daniele Carissimi, Lega, ha detto, il dibattito fa emergere concetti di famiglia diversi e apparentemente inconciliabili. Appare sterile il tentativo di imporsi. La legge prevede che la regione promuova la natalità e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Non credo che qualcuno possa opporsi a questi obiettivi. Eleonora Pace, Fratelli d'Italia, presidente dell'Assemblea, nel suo intervento, ha detto, nel testo si affermano diritti che è troppo spesso la logica del politicamente corretto ammesso da parte. Si tiene conto di una realtà in evoluzione e di un progressivo decadimento valoriale. La legge si fonda sulla solidarietà tra le classi sociali e sul capitale umano. Vogliamo aiutare le famiglie monogenitoriali, i minori e il sistema delle adozioni da contrapporre alla maternità surrogata. Non conta, ha sottolineato pace se l'Umbria dal 2050 avrà un saldo demografico positivo grazie all'immigrazione o ad un incremento della natalità. Stiamo cercando di invertire la rotta con politiche sociali, con al centro la cultura della vita e la crescita consapevole. Questa legge, ha concluso la presidente Pace, è una goccia nel mare, ma una goccia preziosa. Valerio Mancini, capogruppo della Lega, dice che questa legge rappresenta una importantissima sfida del nostro tempo, restituisce centralità alla famiglia in un periodo difficile condizionato negli ultimi anni da alcune emergenze, oltre che da politiche scellerate messe in campo dall'Europa che le hanno impoverite e in molti casi hanno messo in ginocchio le famiglie. La famiglia per Mancini rappresenta il luogo della cultura e dei legami sociali, ma ha bisogno di prospettiva e speranza e noi con questa legge interveniamo in tal senso con misure concrete e di sostegno, con azioni politiche sistemiche che accompagnano le persone dalla nascita alla vecchiaia. Gli interventi in aula sono stati conclusi da quello della presidente della giunta regionale, Donatella Tesei. Abbiamo messo a disposizione 30 milioni per interventi strutturali che coinvolgono diversi assessorati su cui i giovani, i minori, le famiglie possono fare affidamento per il futuro. Di ideologia in questa legge, ha detto Donatella Tesei, non c'è niente e non c'è traccia di propaganda elettorale. Siamo arrivati a ridosso della campagna elettorale, ma questo non può essere un limite della legge. Dando voce anche ai cittadini, alle cittadine che hanno protestato fuori dal palazzo e poi in una delegazione ristretta sono stati ammessi ad assistere alla seduta d'aula, chiedono il potenziamento del funzionamento dei consultori, garantendo così le risposte ai bisogni e alle richieste delle donne, visto il funzionamento a pieno regime, hanno sottolineato di due soli consultori nel territorio perugino. Criticato l'inserimento nei consultori delle associazioni ProVita, anziché, dicono, mettere mano alle dotazioni aziendali di personale e mezzi diagnostici per potenziare le strutture consultoriali. Critica anche la scelta di affrontare, dicono, i problemi della sola famiglia tradizionale, con bonus una tantum che, seppure utili, non possono essere paragonati a interventi strutturali volti alla maternità. Andrebbero invece messi a punto interventi su politiche occupazionali che tutelino la stabilità del lavoro, in particolare superino la precarietà che oggi interessa una gran parte dell'occupazione femminile. L'Aula di Panazzo Cisanoni ha approvato la proposta di legge per la valorizzazione delle infiorate artistiche promossa da Valerio Mancini, Manuela Puletti e Paola Fioroni della Lega. Con questa legge la Giunta regionale, ispirandosi ai principi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, riconoscerà e valorizzerà la tradizione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio delle comunità presenti sul territorio. La dotazione finanziaria della legge è di 30 mila euro per ogni annualità del triennio 2024-25-26. Con 14 voti favorevoli, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Patto Civico, 7 gli astenuti, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto, l'Assemblea ha approvato il disegno di legge predisposto dalla Giunta regionale concernente la disciplina del sistema regionale di protezione civile. L'atto legislativo è stato predisposto nel rispetto dei principi del codice, norma nazionale concorrente, e si prefigge lo scopo di garantire l'espletamento di un servizio pubblico permanente rivolto alla collettività. La prima e la seconda commissione consigliare dell'Assemblea legislativa, presiedute da Daniele Nicchi e Valerio Mancini, hanno in seduta congiunta approvato la proposta di legge norme di economia circolare, sviluppo sostenibile, gestione integrata dei rifiuti e bonifica delle aree inquinate. Il primo firmatario è Daniele Carissimi, consigliere della Lega, è stata sottoscritta anche da altri consiglieri della maggioranza, una proposta di legge che vuole dare all'Umbria una normativa al passo coi tempi e punta a fornire un nuovo impulso allo sviluppo di modelli socio-economici improntati alla sostenibilità e alla circolarità dell'intera filiera del prodotto. La terza commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Elena Proietti Trotti, ha approvato le linee di indirizzo triennali 2024-2026 per il sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età. Avanza quindi il processo di integrazione già avviato anni fa in via sperimentale a partire dal 2018. Tra i sistemi socio-educativi per la prima infanzia fino a tre anni di età e la scuola dell'infanzia, con cui si avvia invece il primo ciclo di istruzione. Si tratta di un approccio fortemente innovativo che promuove l'integrazione tra questi due sistemi tradizionalmente separati tra loro e con riferimenti istituzionali diversi. L'Aula di Palazzo Cesaroni tornerà a riunirsi martedì 24 settembre. Per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU, notiziario video dell'Assemblea Legislativa, va in onda sulle emittenti televisive e radiofoniche della Regione. È disponibile anche in rete sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.